Il sostituto procuratore generale della terza sezione penale della Cassazione Pietro Gaeta ha chiesto oggi la conferma della condanna a otto anni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello dell'Aquila il 6 dicembre del 2013 nei confronti dell'ex militare irpino Francesco Tuccia accusato di aver violentato una studentessa universitaria laziale che frequentava l'università nel capoluogo di regione. I fatti risalgono alla notte tra l'11 e il 12 febbraio del 2011 quando il giovane era a distanza all'Aquila. Il suo arresto avvenne una decina di giorni dopo. La sentenza è attesa domani. L'episodio si consumò all'esterno di una discoteca di pizzoli dove, come fu ricostruito in appello, la giovane fu struprata con inaudita violenza e abbandonata dietro un cumulo di neve all'esterno del locale quando la temperatura era di 14 gradi sotto lo zero. A salvarla dal dissanguamento e dal freddo fu il tempestivo intervento degli addetti e la sicurezza della discoteca che allertarono il 118 e bloccarono il militare mentre tentava di andare via in auto in compagnia di amici. La terza sezione penale si è aggiornata domani per il prolungarsi della trattazione delle cause a ruolo.